ah gacchio porca miseria non ci voglio credere devo portarla da noob perché altrimenti questa qua mi sta mi sa che mi si sta sta morendo sta morendo karen vi rendete conto porca miseria e non voglio che muoia solamente perché non voglio del sangue in dentro la mia casa onestamente andiamo di sopra via porca miseria ma perché sta morendo cioè io l'ho io da tutto quello gli serve per quello motivo sta morendo non è che magari sta facendo finta se le faccio sbattere alla testa forse si sveglia ma meglio evitare magari meglio evitare ok dai comunque intanto che porta appunto karen a casa di noob io vi voglio chiedere una cosa se volete il vostro sbrizer normale beh in questo momento credo che servano solamente dei like per farlo ritornare anche se onestamente io comunque sono un po beh com'è dire non voglio ovviamente che accade una cosa del genere però se proprio lo volete posso riportarvelo per poco comunque saluto in questo momento karen fane ferezeta mickey ferezeta elessio ferezeta mi dispiace che c'è qualcuno che si chiama fane ferezeta perché effettivamente questa qua sta per morire andiamo andiamo è vero ragazzi scusate potete chiamarvi come volete voi anche se comunque onestamente non so per quanto durerà karen noob vieni qua ma perchè sei andato dentro casa mia ma sei un pazzo no noob devi curarmi karen che cosa che significa che devo curarti karen si devi curarmi karen vedi che ce l'hai in braccio dai non farmi scendere con lei che la posso far cadere che cosa che cosa è successo karen ascolta noob ascoltami attentamente sì 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 va bene ti ascolto allora aspetta allora in breve karen non so per quello motivo ma è completamente morta all'interno della mia zona ma sei morta di già no non è ancora morta però magari puoi ritufargli qualcosa che ne dici ma tu stai uccidendo persone su persone non sto uccidendo nessuno io noob eh sbrigati prima che ti do un altro pugno ti faccio sbagliare a terra come l'ho fatto la scorsa volta ok va bene va bene va bene hai pensato magari di idratarla perché mi sembra un po' asciutta faccio l'acqua me l'aveva detto me lo sono scordato porca miseria ma come fai a scordartelo ma sei pazzo lo so noob però non posso farci nulla hai dei bicchiere d'acqua qua dentro casa tua no non ce l'ho vedrai dentro casa tua ah va bene andiamo a casa mia allora porca miseria ma veramente facciamo cioè io che volevo un attimo avere un po' di pace e adesso si presentano questi problemi come ad esempio questa karen che sta male ma davvero te ma non facciamo di scherzi comunque allora devo andare a vedere effettivamente qua se c'è un bicchiere d'acqua dovrei vercelo dove cavolo è perfetto prendiamo i bicchiere d'acqua ottio va bene anche dal rubinetto che cos'è questo suono è pro sicuramente però senti non ho tempo però veramente devo andare bene cacchio mi sono scordato la porta aperta però come cavolo chi è che è bussa ma previene da questo muro ma che cosa ah cacchio stregotta e tu che cavolo ci fai qua no 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 sei riuscita a distruggere il muro ok ferma ferma ah cacchio non è possibile che ha avuto questa forza all'interno del mio cerchio magico non ha senso tutto questo allora ok ok senti eh cerchi tua sorella giusto stregotta eh tua sorella karen ok posso posso dirti dov'è eh dov'è mia sorella ok si ti dico subito dov'è allora bene 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 allora tua sorella ecco precisamente si trova eh vieni vieni è stata male è stata male ti posso aiutare ok perché mi sento ad una certa così tanto impaurito davanti la sua presenza è come se fosse diversa guardatele gli occhi non ha senso hai capito stregotta quindi ti porto da lei e tutto ritorna come prima sì perfetto allora seguimi seguimi pure porca miseria veloce si sono più veloce della luce come mai io sono dark svisere io non dovrei essere impaurito di una strega come lei ah cacchio ok ok vieni qua stregotta vieni qua ehm ecco eh si trova qua eh le dovevo portare un bicchiere d'acqua però poi ah sei arrivata a te quindi eccomi qua che devo ehi noop apri la porta porca miseria ha una potere strano stregotta è come se tipo dove provenisse avesse un altro tipo di potenza ok noop eccomi qua ma chi è quello c'è stregotta sì c'è stregotta ok salite di sopra va bene ok ecco è qua tua sorella come vedi eh eh non respira è malapena purtroppo sorellina eh ehm ascolta ehm meglio meglio non lo so magari mi puoi fare oh cavolo sta sentendo se sta respirando com'è sta respirando stregotta cavolo oh cacchio 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 ah le mie ali perché sono così tanto strane eh eh oh oh Karen ascolta stregotta eh non so se hai dei poteri per farla ci mancava poco oh sto usando i suoi poteri per farla per risvegliarla esatto sto usando i suoi poteri e come ho fatto a ritornare come prima evidentemente quando c'è un boato come è stata l'esplosione da parte di eh stregotta vuol dire solo una cosa che evidentemente Darks Breezer lui ha è debole sui rumori alti ehi ehi Karen magari ha bisogno dell'acqua dagli un po' d'acqua stregotta quindi io riesco a riprendere il potere dall'interno del mio corpo con dei rumori alti cavolo perché non ci ho pensato prima eh ah sì sì pensaci dopo Breezer oh cavolo no bevi ehi Karen stai bene oh mio dio non riesco a tanto morire sta bene questa qua allora eh sì sta bene sì ok bene bene l'importante è che sta bene porca miseria veramente incredibile questa situazione io non so veramente che cosa fare eh però comunque grazie mille stregotta eh puoi andartene via adesso sì io me la riporto adesso nel mio bunker eh eh sto scherzando sto scherzando che cosa vuoi cane ti do eh aspettate cosa c'è sorellina tranquilla tranquilla stregotta sta bene tua sorella puoi andartene di nuovo nel tuo portale vai via perché sei così eh sta così perché è caduto dalle scale non posso dirlo appunto cioè è caduto dalle scale in una maniera davvero imbarazzata che a te non deve fregare nulla hai capito quindi vattene via e vattene nel nostro nel tuo portale eh no tranquilla non è successo niente l'aiuto io l'aiuto io tanto la mia ragazza ah sì 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 è sicuramente la mia ragazza quindi vattene via vattene via stregotta mmm oh mio dio ah sprevi per quanto ancora devi fare il buciardo zitto tu noob ah dove vai stregotta aspetta io devo essere sicuro che è entro all'interno del mio portale prima ok senti un attimo stregotta sentimi ah cacchio non ho più chi è che mi ha tolto il mio catenniaccio è stata stregotta porca miseria ok stregotta senti un attimo ok prima di entrare nel tuo portale non entrare più in questa zona mi spiego un attimo intanto come fai ad avere i poteri in un cerchio magico perché io eppure l'ho creato apposta per insomma sì ovviamente non per tua sorella ma per le mie per questi mascalzoni sì di questi tizi qua vedi che questi qua entrano a casa mia e mi rovinano le case quelle cose non mi fanno niente ah ok va bene ciao ci vediamo allora cavolo gli potevo dire per quel motivo non gli fanno nulla magari potrebbe darmi una mano però se gli chiedo di darmi una mano potrebbe insospettirsi sicuramente oh porca miseria gli devo nascondere tutto quello che sto nascondendo io oh ehi di là c'è nessuno ehi oh oh cacchio eh eh uh eh cavolo non me l'aspettavo così questo diverso onestamente però bello bello eh piacere io sono eh Svriser e faccio parte tu sei dovresti essere la mia la mia controparte la mia controparte vero cosa cavolo sta accadendo ciao 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 ciao